Scopri i segreti dei tuoi repository con Microsoft Security DevOps. Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere un tool di sicurezza che possiamo installare su Azure DevOps. Mi spiego meglio, in particolare riguardo i segreti. In azienda sto seguendo un progetto di sicurezza delle informazioni e io mi occupo di tutti quelli che sono i dati, i repository, insomma tutte le informazioni che girano intorno al processo di sviluppo. Da quello che avviene nella macchina del developer fino a ciò che accade con le pipeline in automazione che rilasciano nei nostri server di produzione. Una delle criticità che abbiamo trovato è quello che esiste sempre il rischio, la possibilità che un developer per errore immetta un segreto, quindi un token, una password, una connection string con informazioni particolari all'interno del repository in chiaro. Un processo orientato alla sicurezza, perché funzioni bene, deve essere il più possibile trasparente e con meno frizione rispetto alle attività quotidiane, in questo caso dei developer, cioè bisogna trovare il modo di controllare che ci siano segreti all'interno dei repository, rilevarli e segnalarlo, cercando di evitare attività extra da parte del developer. Ecco che quindi un buon punto per mettere controlli di questo tipo potrebbero essere le pipeline di continuous integration, quindi quando parte la nostra automazione di build andare a iniettare un qualcosa che scansiona i repository all'interno e rilevare quelle che possono essere delle stringhe che assomigliano ai segreti delle password con delle euristiche. Andiamo a vedere come si può fare tutto ciò all'interno di una Azure pipeline. Ho preparato un repository con dentro una connection string con un segreto. Utilizziamo i security tools di Microsoft con la specificità di andare a cercare appunto i segreti. Andiamo subito nell'ambiente di sviluppo. Ok, sono dentro al mio Azure DevOps. La prima cosa che vado a fare è installare l'estensione nel marketplace. Quindi faccio la borsetta della spesa, faccio un browse marketplace e cerco security. Ecco che troviamo questo Microsoft Security DevOps. È un'estensione gratuita. Faccio get it free. Qui c'è tutta la spiegazione dove installa gli strumenti di Microsoft orientati alla sicurezza. Ci spiega le dipendenze che ha bisogno del .NET 3.1, alcuni componenti e altri del 6. Quindi faccio install. Ci dovrebbe mettere veramente un attimo. Ok, installato. Ritorniamo alla organization e vado nel mio repository che ho recuperato un vecchio progetto dove ho messo qui nella mia applicazione web MVC nel file appsettings.json sono andato a mettere una connection string database dentro una password. Ok? E voglio verificare che mi venga correttamente rilevata dal tool in pipeline. Allora, cosa faccio? Prima vado a progettare la mia pipeline. Faccio un new. Prendo il mio repository. Weder on containers. Parto da una starter. Mi faccio dare un qualcosa in maniera... Non partire da foglio vuoto. E qui butto via tutto. Mi tengo agli step. Cerco qui il security. Prendo Microsoft Security DevOps. Vado di configurazioni standard. Policy. Quelle proposte da Microsoft. Categories. Lascio così. Non... Cioè si può specificare di andare a cercare segreti. Code artifacts. Facts eccetera. Anche infrastructure code. Insomma, questo tool è veramente completo. Poi metto il link del progetto GitHub nella descrizione. E io l'unica cosa che voglio fare è attivare il tool CredScan. Il tool CredScan, come indicato nella documentazione, è quello che serve per fare l'analisi dei segreti all'interno del repository. Voglio che mi pubblichi il risultato come legato, come artefatto della pipeline e che me la rompa, mi faccia diventare un bel rosso se un segreto viene rilevato. A questo punto faccio add e save and run. Sono pronto per provare. Vediamo l'esecuzione della pipeline che parte subito. Clicco qui. Siamo in attesa. Siamo arrivati al checkout repository. Sta partendo il tool, la Microsoft Security DevOps Cli. Si ripristina da sola. È tutto pronto all'uso. Vediamo che scarica il tool CredScan. Parte il Credential Scanner. Vediamo Initialize, Start File Scanner. Eccolo qua. E abbiamo visto un rosso. Adesso quando finisce di muoversi la schermata, ritorniamo nel log e vediamo. Credential Scanner Error, General 31. Nel file WiderMVC Upsettings.json, riga 9, colonne 47. Che cosa abbiamo? Abbiamo un Potential Secret was detected in Upsettings.json, una stringa odbc, validate, file contain secret, eccetera, eccetera. Quindi effettivamente ha fatto il suo mestiere. Andiamo a vedere cosa ci mette in pipeline. ci mette allegato questo file Sarif, che è un formato standard di pubblicazione di esito, un report di analisi statica. Andiamo a vedere che sostanzialmente è un JSON, così fatto. E dovrei avere anche installato un plugin, eccolo qua, di Visual Studio Code. Basta cercarlo con Sarif. Sarif ed è questo qui, il Sarif Viewer. Io l'ho già installato. E quando noi apriamo un file Sarif, lui ci dà questa possibilità di navigarlo in maniera un po' più comoda rispetto al JSON. È Potential Secret. Abbiamo anche la regola. Ci posso... Insomma, è decisamente più consultabile. Allora, un'altra cosa che posso fare è cercare sempre qui, tra le estensioni di Azure DevOps, il Sarif Viewer. Prendo lo Sarif Sast Scan Tab, faccio Get It Free, installo. Questo qui dovrebbe mettere una tab nella pagina di build per vedere in maniera pratica, senza doverlo scaricare, per il Visual Studio Code, eccetera, il report. Quindi installo, ritorno sulla mia organization, vado nella pipeline che ho appena lanciato, a questo punto ho gli scans, ed eccolo qui. Posso vedere, posso filtrare, update, new, insomma, c'è un po' di tutto. Funzionalità di filtro, ma sostanzialmente una bella reportistica comoda qui, a portata di mano. Per oggi, con i security tools all'interno della Azure Pipeline, ci fermiamo qui. Sicuramente tornerò sul tema, perché è un qualcosa su cui sto lavorando attivamente, e quindi sicuramente arriveranno altri video. Fammi sapere cosa ne pensi, se da questo video hai imparato qualcosa, ti è piaciuto, mi raccomando, metti un mi piace, iscriviti al canale. Ciao! 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 Ciao!